Mancanza di scale idonee nel cimitero di Ariano Irpino. Giovanni Maraia scrive al sindaco Domenico Gambacorta. Diversi cittadini mi hanno informato sulla mancanza di scale idonee per accedere ai loculi posti sui pendii del cimitero. Per questi loculi, precisa Maraia, non sono idonee le scale a torre né quelle semplici. Queste ultime, dovendo poggiare su un terreno sconsceso, diventano un pericolo per chi le usa. Il comune di Ariano Irpino deve immediatamente vietarne l'uso e sostituirle con scale che assicurano l'incolumità di coloro che le adoperano. Molte di esse di proprietà del comune, presenti nel cimitero, sono divenute di proprietà privata, addirittura sono bloccate con catene e lucchetti e presenti all'interno degli spazi dei loculi interrati. Fin qui la comunicazione è già trasmessa agli uffici di palazzo di città da parte del responsabile di Ariano in movimento. Un problema di sempre, più volte denunciato anche alla precedente amministrazione comunale, dei tanti visitatori del camposanto. E qualche mese fa un'anziana donna di Contrada Manna si è salvata per miracolo dopo essere scivolata da una di quelle scale pericolosissime. Dunque un problema che va affrontato con la massima urgenza insieme alla questione loculi non ancora risolta e che potrebbe ulteriormente precipitare se non partirà il nuovo lotto dei lavori. La soluzione resta ormai quella già adottata negli ultimi anni e cioè la realizzazione di loculi prefabbricati in vetroresina. Un sistema rapido e risolutivo adottato ormai in tutti i cimiteri ma gli ostacoli purtroppo ad Ariano anche qui non mancano.